L'Europa si prepara a mettere un nuovo paletto tra gli adempimenti per le imprese ittiche. È in corso infatti la revisione del regolamento sui controlli e l'orientamento e quello di imporre l'obbligo delle telecamere a circuito chiuso a bordo dei peschierecci. Dopo il computer tablet per segnare le catture e il sistema blue box satellitare per controllare e tracciare gli spostamenti in mare, sempre a carico degli armatori, ora arriva questa novità delle telecamere. A lanciare l'allarme sulla scia dell'alleanza delle cooperative della pesca è la Federco Pesca Molise, diretta da Domenico Guidotti, secondo il quale il rischio è anche quello di violare le norme sulla privacy dei marittimi. Una impresa ittica su due rischia di scomparire piegata dalla crisi ingenerata dalla pandemia, ha commentato Guidotti. Occorrono liquidità e iniziative per favorire i consumi e valorizzare le produzioni. Ad oggi i pescatori sono gli unici a non aver avuto nessun tipo di contributi per il coronavirus aggiunto, ma ci piovono dall'alto altri paletti assurdi che esasperano l'attività degli operatori, imponendo ulteriori lungaggini burocratiche, mentre il mondo produttivo chiede a gran voce una semplificazione. Secondo Federco Pesca il sistema delle infrazioni gravi, con tutto il carico sanzionatorio che comporta, ha contribuito a creare distorsioni eccessive tra pescatori appartenenti a differenti marinerie, oltre che tra pescatori UE ed extra UE. Nuovi inasprimenti potrebbero far aumentare questi squilibri, creando ulteriori penalizzazioni. Si tratterebbe di un ennesimo regolamento vessatorio che si aggiunge a controlli sempre più stringenti per la marineria molisana, già soggetta, fa notare Guidotti, a ripetuti e severi controlli con sanzioni importanti. Chiederemo a gran voce, con tutte le nostre forze all'Europa, di respingere le proposte di modifiche del regolamento sui controlli, così come sono state pensate, e dare vita invece ad una riforma che coniughi il rispetto delle regole con la possibilità di fare impresa, ha concluso Guidotti.